da Muriela come nasce? no no, è come un'idea della possibilità si però, un po' ti spiega una cosa e poi quando è arrivato il paramezzo per il testo non è stata una donna no, non è proprio è parte così no, ma te lo spiega fammi finire qua Massimo grazie 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 grazie